Alvia Sciacca, la terza edizione del Salotto Artistico-Culturale a Bordo Piscina, San Marco Restart, organizzato dal Comitato Provinciale Asi, con la direzione di Giuseppe Recca e la collaborazione della struttura turistico-ricettiva Bono Vacanze. Il primo appuntamento sarà domenica alle ore 11, con il musicista e cantautore di origini sarde Mariano De Idda. Un ritorno a Sciacca ad 11 anni da un concerto che lo vide esibirsi all'Auditorium delle Terme. La proposta artistica di De Idda, che unisce letteratura, jazz e musica d'autore, ha ottenuto anche diversi riconoscimenti in importanti eventi di musica d'autore e di letteratura. L'abbiamo dimostrato nei due anni precedenti, nelle prime due edizioni. Turismo e cultura possono camminare assieme. Questo è un salotto letterario di grande spessore culturale. Domani partiamo, il primo appuntamento alla terza edizione, con il musicista e cantautore Mariano De Idda. L'appuntamento è domani alle ore 11 e l'ingresso, voglio sempre precisare questo, l'ingresso è gratuito. Naturalmente noi mettiamo la location a disposizione di questo salotto letterario e ringraziamo Mario Cucchiara e quindi ringraziamo l'ASI e il giornalista che cura il salotto letterario, Giuseppe Recca. Siamo presenti per la terza edizione, siamo contenti perché, a parte la location che è bellissima, è sempre per noi un'opportunità per diffondere la cultura e il sociale. Quindi ospiteremo anche per questa edizione artisti, poeti, scrittori e quindi sarà una bella vetrina un po' per tutti. Oggi e domani invece, sia di mattina sia di pomeriggio, l'associazione di promozione sociale 123 Stalla, affiliata al Comitato Provinciale Asi di Agrigento, promuove presso la propria struttura incontrata carcossea a Sciacca un open day per presentare le attività ludiche e didattiche riabilitative svolte con asini, poni, cavalli, alpaca, pavoni e tanti altri animali e per fare conoscere i laboratori politematici di musica e pittura. Un progetto con cui, attraverso gli animali domestici, crea un contesto ludico formativo in grado di stimolare le potenzialità e abilità delle persone per poterle applicare nel mondo del lavoro e nella vita.